ciao ragazzi oggi vi faccio vedere altri nuovi colori che ho preso della linea Everlasting Glimmer Whale di Kat Von D e come vi come vi dicevo sono gli ultimi nuovi rossetti effetto metallo io ho preso Rocker che è questo che è quello arancione molto bello la cosa che mi piace di questi è che questi durano a lungo però questo adesso lo dovrei togliere subito che se non riesco a mettere gli altri infatti non è che si è tolto per bene vabbè comunque andiamo avanti ciascuno costa 22 purtroppo se avete buoni sconto Kat Von D non ve lo sconderse forà ve lo dico perché mi è capitato oggi quindi ciao come dice il mio collega ciao poi ho preso il Dezzol che è quello rosso ho preso il mio collega prima che si asciugge a me questo che non si era asciugato è andato via abbastanza però questo qua che si è asciugato col cavolo che va via con la salvietta poi shockfull che è questo fucsia questo è veramente scioccante questa è una figata pazzesca come potete vedere è una figata pazzesca mi piace un casino come mi sta questo mi piace un casino veramente l'ho tolto però rimane mazza se rimane l'ultimo si chiama arazzal ed è il viola c'è viola sarebbe fucsia più che altro guardate quanto è bello io questi per tutto quello che durano me li porto giù al matrimonio ci faccio una bella figura che sono veramente fantastici ma a me piace un casino e questo è la roba per quanto riguarda il sephora poi ho preso un'altra bella cosa però questa è la Primark che sono questi mini pennelli che in pratica poi dopo si attaccano così allora vi faccio vedere questi sono pennelli di 3 euro questo liner è per diciamo eyeliner eccetera questo è il cappuccio e mettiamo qua il cappuccio e chiudiamo poi shadow e l'ombretto è per l'ombretto poi brown è quello per le sopracciglia e eyes è quello per gli occhi che come potete vedere ha anche il pirulino sotto vediamo un po' vediamo un po' se riesco a sistemarli per bene orca boia e così c'è tutto vedete 1,2,3,4 mini pennelli vedete 1 togli il tappo fai vi piace l'idea? 3 euro una cazzata proprio al Primark grandissimo Primark queste idee sono salvavita anzi precisamente salvaspazio mi sa che termine da comprare qualcun altro preparati le cose della NYX ve le faccio vedere in un altro video perché prima mi devo togliere questa roba qua perché se no non favo niente e con questo vi saluto ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti